Sono chiusi dal 24 ottobre scorso, ora grazie all'emendamento dei liberi uguali potrebbero riaprire ma non lo faranno. Non cantano sicuramente vittorie ai gestori e titolari dei bar dei circoli di Pesaro, dopo aver saputo che ad oggi in zona rossa possono tornare a servire da sport o bevande ed alimenti, esattamente come fanno gli altri bar. Di fronte alle telecamere di Fano TV alcuni di loro evidenziano le difficoltà affrontate fino ad oggi per via non solo della chiusura prolungata ma anche dei pochi ristori ricevuti. Non c'è stato riconosciuto dall'inizio il diritto di poter agire, lavorare come gli altri magari in una situazione di pseudostabilità come quella che hanno creato con la zona gialla. Facendo questo ci hanno bloccato del tutto, io ad esempio sono chiuso completamente dal 24 ottobre 2020, gli aiuti del governo sono stati assolutamente non adeguati al nostro fabbisogno tant'è che tranquillamente lo posso dire io ho preso 3.000 euro negli ultimi 5 mesi e non sono bastati nemmeno per pagare le spese della ragazza che lavora con noi. Abbiamo deciso di fare qualche oretta di apertura simbolica più che altro per dare un messaggio a tutti i soci e far capire loro che non molliamo e che il circolo è vivo. Il discorso è che ci hanno impiegato un anno per capire che all'interno dei circoli, di club, di associazioni sportive ci sono attività fiscali, società aperte, bastava solamente dire lavorate come tutti i bar visto che siete attività fiscali, bastava dire svolgette attività bar e basta, chiudendo attività ludiche, sportive o culturali che siano, invece ci hanno lasciato alla fame, completamente chiusi con attività come dicevo fiscali completamente ferme, completamente ferme senza anche darci l'opportunità di lavorare come bar normale quelli che siamo. Ma la situazione è consolidata in negativo perché a noi questa cosa qui non ci dà nessun beneficio, immaginate voi l'asporto di un circolo dove diciamo l'attività primaria è l'attività ludica, il gioco, quelle cose lì e quindi per noi, perlomeno per quanto riguarda la mia attività, non c'ho nessun beneficio.